Molti ovviamente ci chiedono la Cina al di là di quello che... La Cina sono molto bullish onestamente, però continua a non performare. Eh vabbè, però... No, no, va bene, io... China AI secondo me è un asset class asimmetrico, il mercato domestico cinese è un asset class asimmetrica. Ovviamente c'è il tema geopolitico legato agli Stati Uniti, ma questo non è nuovo. Come si dice in realtà l'economia non sta crescendo così tanto, stime dicono che sceglieranno gli utili nel prossimo trimestre. Sì, però dobbiamo, secondo me sulla Cina dobbiamo un attimino allargare l'orizzonte temporale su quello che sta succedendo in Cina. Cioè non è che si sono svegliati una mattina e hanno deciso, adesso togliamo, passiamo da zero covid a tolleranza di covid. Questo rappresenta un cambiamento più ampio, a mio avviso nella leadership cinese, nella presa di coscienza che la crescita economica è fondamentale per il sostegno al partito. Quindi non è solo l'abbandono della politica zero covid, ma è l'abbandono di tutte le politiche anticrescita che hanno caratterizzato i due anni precedenti. Io non credo che il mercato sia ancora focalizzato su queste cose, credo che il mercato continui a vedere con dubbio quello che sta succedendo in Cina. Però francamente se uno prende la Cina domestica, 11 volte gli utili, 12 volte gli utili, la Cina è chiaramente early cycle. Cioè il ciclo in Cina, la Cina ha un alto tasso di disoccupazione, ha un'inflazione molto bassa. Dov'è che vuoi comprare azioni? Vuoi comprare azioni dove il ciclo è relativamente giovane, non dove il ciclo è vecchio. La Cina invece mi sembra una fase completamente diversa. Non dico che ha risolto il tema della bolla immobiliare, ma certamente abbiamo avuto un ridimensionamento significativo dell'immobiliare cinese. Più o meno il 30-40% dei builder sono defaultati, l'inflazione è sotto l'1%, il tasso di disoccupazione dipende perché è misurato, però è molto alto in Cina. Quindi la mia impressione è che la Cina sia difensiva in un downturn e possa apprezzarsi in un upturn. Ora il tema del confronto strategico con gli Stati Uniti è vero, però la mia contro argomentazione a questa cosa è la seguente. Quando noi pensiamo alle sanzioni alla Cina pensiamo a un mondo unidirezionale dove i paesi sviluppati possono fare male alla Cina, ma la Cina non può far male ai paesi sviluppati. Mi sembra una visione semplicistica di come sono le cose. Se uno guarda che cosa spiega il fatto che i margini di profitto delle aziende, soprattutto negli Stati Uniti, sono ben sopra, sono praticamente ai massimi storici, questo è spiegato dalle aziende che hanno sfruttato in modo significativo la globalizzazione, vale a dire la Cina. Quindi è molto difficile danneggiare la Cina senza danneggiare se stessi. Quindi non sto dicendo che la Cina non possa essere danneggiata, ma l'assunzione per cui noi possiamo danneggiare la Cina e non succede niente, magari è vera dal punto di vista economico, ma sicuramente non è vera dal punto di vista delle aziende quotate, dei margini delle aziende quotate. Non dimentichiamo la differenza degli ultimi dieci anni tra economie che sono cresciute poco e mercati azionari che sono cresciuti tanto. La delocalizzazione dei processi produttivi fa sì che ovviamente tu sostituisci il lavoro dei paesi sviluppati con il lavoro dei paesi emergenti, che costa di meno, i tuoi margini di profitto salgono. Non necessariamente l'economia va particolarmente bene, ma il mercato azionario va molto bene. Se noi facciamo il percorso inverso, l'idea che noi possiamo fare male alla Cina e questa cosa è indifferente dal punto di vista dell'andamento dei nostri mercati, mi sembra sinceramente molto, molto naif. Grazie a tutti.